Pronto? Prontissimo! Indovina l'azzurro! Che bella? Ok. Dovevo fare io? Un difensore? No. Che è un centrocampista? Sì. Hai capelli neri? Ne. Non come i tuoi. Non come ce la vedi. Ha origini brasiliane? Sì. Giorgini. Ok, vai. È un portiere? No. Attaccante? Sì. Agli occhi azzurri? No. Alla Cresta? No. È un'ala sinistra? Anche. Della Juve? Sì. Berlandeschi? No. Chi è? È un portiere? No. Un difensore? No. Un attaccante? Sì. Gioca con il numero 10? Sì. Un sì? Sì. Ahahah! Guardate! È un portiere, stavolta. No. Difensore? Sì. Gioca nel Juve? Sì. Piede destro? No. Chi è lì? Sì. Sì. Un attaccante? No. Portiere? No. Difensore? No. Centrocampista? Sì. Mancino? No. Gioca nell'Inter? No. Mi stavo dimenticando tutti i centrocampisti in questo momento. Gioca nel Sassuolo? Sì. Beh. No! È uguale, dai! Locatelli? Portiere? Sì. Gioca nel Milan? No. Torino? Sì. 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 È un attaccante? Sì. Perfetto. È biondo? Sì. Gioca nella Lazio? Sì. È Ciro Immobile? Sì. Centrocampista? No. Attaccante? No. Difensore? Sì. Terzino-sinistro? Sì. Gioca all'estero? No. Roma? Sì. Pinazzola? Sì. Ma questo è facile. Questo è un portiere sicuro? No. Non è un portiere? Allora un difensore. Sì. Gioca nella Lazio? Sì. Sì. Ma chi è? Sì. Per caso è Mancino? Sì. Eh? Leone gli saprò il nome? Sì. Sì. Francesca Cervi? Lazza. 5-0. 5-0. No. Oh, scusi. Portiere? Sì. Gioia Milan? No. Napoli? Eh sì. La bella forza. Ci siamo. Portiere? No. Allora un difensore? Sì. Giocando la Juve? Sì. Il vice capitano della Nazionale? E per caso di Bernardo Bonucci? Vai, non ho sbagliato. Attaccante? No. Centrocappista? No. Distensore? Sì. Terzino a destra del Napoli? No. Gioca nell'Inter? No. Gioca all'estero? No. No. Ah, giochi nell'Atalanta? Sì. Tolovi? Sì. Difensore? No. Centrocampista? Sì. Ancora stai centrocampisti? Gioca all'estero? Sì. È stato il mio compagno di squadra? Sì. Marco Vedatti? Perfetto. Portiere? No. Attaccante? No. Centrocappista? No. Difensore? Sì. Gioca all'estero? No. Giocare a Napoli? No. Terzino a destra? No. Ah, giocare nell'Inter? Sì. Sì. Ma sto? Portiere? No. Centrocampista? Sì. Giocano a Fiorentina? Sì. Castroviccio? Sì. Tanto ho vinto comunque. Portiere? No. Attaccante? No. Centrocampista? No. Difissore? Neanche. Il mister? No. No, un attaccante, sto scherzando. Giocano a Juve? No. Giocano a Torino? No. Ah! Giocano a Sassuolo? Sì. La Spadoli? Ma sei sbagliato il nome di Locatelli? No, stavo confondendo. Sassuolo e Sassuolo ho detto beh, Locatelli. La prima cosa che dici è quella. No. Locatelli e Locatelli. Sì. Dai, ho vinto. Ho vinto clamorosamente. Io mi stavo confondendo con il nome, però ho vinto io, almeno per una volta. Ho perso tutte le partite ultimamente, quindi mi lascio vincere questo gioco. Ti lascio il gioco. Perfetto, grazie. Grazie a tutti. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.